Confermare l'ergastolo a Matteo Messina Denaro perché è considerato uno dei boss che diede il via libera alla stagione delle stragi del 92, quando in appena 55 giorni vennero uccisi i magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino insieme agli agenti delle loro scorte. Nessun dubbio da parte dell'attuale procuratore generale facente funzioni Antonino Patti nel formulare alla Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta la richiesta di confermare quanto già deciso al termine del processo di primo grado. Lui, l'imputato di Castelvetrano, 60 anni compiuti lo scorso 26 aprile, ovviamente in aula non c'è. È latitante da 29 anni, dall'estate del 1993, ma per i magistrati di tutta Italia è colui che ha ereditato il bastone del comando di Cosa Nostra e secondo l'accusa, già all'epoca delle stragi, era un esponente di spicco della mafia siciliana, tanto da essere stato uno di coloro che diede il rocchei agli omicidi di Falcone e Borsellino. Giovanni Falcone, all'epoca responsabile del Dipartimento degli Affari Penali del Ministero della Giustizia e ormai a un passo dalla nomina procuratore nazionale antimafia, venne ucciso nell'attentato del 23 maggio 1992 insieme alla moglie Francesca Morvillo e agli agenti di scorta Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani. L'ordigno piazzato dai killer di Cosa Nostra nei canali al di sotto dell'autostrada Mazzara-Palermo all'altezzo dello svincolo di Capaci-Isola delle Femmine esplose mentre Falcone e la scorta viaggiavano dall'aeroporto di Punta Raisi a Palermo. Paolo Borsellino, ex procuratore aggiunto di Palermo, trovò la morte meno di due mesi dopo quando un'autobomba esplose in Via D'Amelio, nel capoluogo siciliano, nel momento in cui il magistrato si era recato nell'abitazione della madre. Con lui trovarono la morte gli agenti Agostino Catalano, Emanuele Aloi, Vincenzo Limuli, Walter Cusina e Claudio Traina.